Diciamo che io ho in testa lo scheletro, l'impostazione, le caratteristiche delle persone che voglio. Devo dire che molte di queste persone hanno nella mia mente un nome e un cognome. Aveva detto di avere già in mente i nomi e i volti della nuova giunta regionale, ma la verità è che dipanare la matassa delle nomine della squadra di governo della Toscana per il neogovernatore Eugenio Gianni si è rivelata un'operazione difficile che ha richiesto grande capacità di mediazione. Il nodo più intricato è quello dell'assessorato alla sanità, senza dubbio il più importante e prestigioso tra quelli disponibili, ma anche il più scottante, vista l'emergenza che il nuovo assessore dovrà gestire. A sbloccare l'impast potrebbe essere l'intesa che Gianni e Matteo Renzi avrebbero raggiunto nelle ultime ore ricucendo gli strappi dei giorni scorsi. La sanità potrebbe aspettare all'unico assessore in quota Italia Viva previsto. Sul piatto l'ipotesi di un saccar di bis oppure la nomina dell'ex sindaco di Livorno Alessandro Cosimi che essendo un medico offrirebbe anche un profilo tecnico. Per il resto la giunta viene definita in queste ore dal neogovernatore assieme al PD. Si va verso uno schema a otto, cinque uomini e tre donne, con sei assessori democratici, uno di Italia Viva e uno di Sinistra Civica Ecologista, che sarà l'ex consigliera Serena Spinelli. Altri nomi sicuri sono quelli di Leonardo Marras, Alessandra Nardini, Simone Bezzini e Monia Monni, favorita anche per il ruolo di vicepresidente. Ne mancano due, ma con un piede in mezzo dentro c'è pure Stefano Baccelli. Seguendo il criterio della rappresentanza territoriale resterebbe fuori il nome di un assessore a retino che a seconda della nomina in sanità potrebbe essere Lucia De Roberti e Vincenzo Ceccarelli. Per avere le risposte definitive basterà a tebbene ancora poche ore.